Ciao, allora, dopo una settimana e mezzo, forse anche di più, siamo tornati a fare un nuovo video, finalmente. Buon anno, buon anno, buon anno. Un po' in ritardo però, non è mai tardi per il meglio. Stamattina sono andata a fare shopping, appunto perché sabato sono iniziata a creare i soldi. Ok, ho comprato quasi niente, diciamo, non avevo abbastanza soldi per svuotare tutto il negozio, tutti i negozi possibili e immaginabili, quindi ho preso qualche cosa, poca roba. Allora, iniziamo con l'OPS, con la Essence. Allora, per fortuna sono riuscita a trovare il detergente per il viso della Miss Keen, lo cercavo da un sacco di tempo. Non l'ho mai trovato, se lo trovavo era tutto da fuori, tutto aperto, buttato schifosamente. E quindi l'ho preso, poi ho preso il... lo dico in italiano, lo spruccante occhi, delicato, che anche questo volevo provare da un bel po'. Finalmente l'ho preso. Poi ho preso il... l'uscita labbra della Stay With Me, questo è il numero 007 Kiss... 007? Perché 007? Il numero 07 Kiss Kiss Kiss... Le invento io le numerazioni. E quello che ho addosso adesso, è questo rosso, bellissimo. Questi due smast... questi due smastini, che sono della Shaka, quelli della Essence non mi attiravano tanto. Allora, uno è questo color grigio, grigio beige, con dei riflessi, dei piccoli riflessi, piccolissimi proprio, riflessi per... perla. Con dei riflessi perla, che voi però non vedete, non vedete, non vedete voi, voi non vedete. E poi... vi faccio la swatch... e poi... e poi questo... questo fucsia, questo rosa, bello, bellissimo, intenso. Tutto tinta unita, non ha... non ha né scintillanti, né perle, né niente. Ok, questi sono gli swatches. Ok, allora questo... Questo chiaro... È il numero duecento... quindici. E invece quest'altro... bellissimo, perché lo trovo bellissimo, quest'altro fucsia... È il numero cinquecentoventi. Quindi... E con Essence abbiamo finito... No, no... Sì, con Essence abbiamo finito, però all'OBS c'erano degli accessori che se avevano il bollino rosso c'era il 50% di sconto. Allora, ho preso questi orecchini qui, che sono a forma di cuoricino e sono particolari e belli perché hanno metà... Metà del cuore e con i brillantini. Sono davvero belli, sono la forfallina dietro. Questi mi sono... l'ho pagati... cioè venivano 4,99 e l'ho pagati la metà. Poi sono andata a Pinky e ho preso questa... Questa cannottierina qui, semplice nera, però ha questo particolare che... A parte il fatto che è bucharellata, va bene. Non lo vedrete... Non lo vedrete mai! Non lo vedrete mai! Vabbè, comunque c'ha la zona sopra e le spalline in pizzo. E che ci ho preso una solona, tipo... Allora, c'era il targhettino con scritto 4,90, 4,99. Canotte 4,99. Preciso, 5 euro. Preciso. Ma dalla cassa sono 6,90 euro. Ehm... Perché se metti 5 euro lì non mi puoi chiedere 7 euro alla cassa. Mi ho detto, no, guarda, questi 4,99 euro sono quelli... Sono per le cannotte semplici. Quella con il pizzo viene un po' di più. Ah, ok. Però scrivicelo dai! Come ultima cosa al... Piazza Italia, ho preso questo cardigan che è fatto così. Di questo colore beige. Beige. Nocciola beige. Dalle tasche. Comunque questo veniva 19,95. Però io l'ho pagato a metà prezzo, quindi 9 euro e 95. 9 euro e qualcosa. Comunque mi piace tantissimo. Bello, bello, bello. Ok, i miei acquisti per oggi sono finiti. E quindi questi erano tutti i miei acquisti. Io vi riauguro un buon anno. Io vi mando un ab... Un abbacio! Un abbacio! Vi mando un abbacio che è un... Mi scuglio tra un abbraccio e un bacio. Un abbacio. Ci vediamo al prossimo. E niente, ciao! 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 Ciao!